Buonasera, questa sera è venuta la quarta commissione politica ambientale e mobilità per un argomento importante, le centrali più massi. Mi sembra che il numero legale c'è, gli assenti è solo Bellotto Paolo, quindi possiamo procedere quando riguarda la serata. Abbiamo ricevuto una richiesta sospita dai componenti dei comitanti, quindi dai sei comunicati e questa sera sono presenti, quindi ti darà aggiunta a questo argomento che è importante. Signor Presidente, ti diamo 5 minuti a testa, va bene? 5 minuti a testa? Buonasera anche al Signor Sindaco. Scusi, c'è qualche verbalizzante nel tavolo della riunione? No, non c'è. Non c'è. Perché sarebbe importante questo perché rimane come documento in vista del consiglio comunale. Projektoree, non c'è. Grazie.